È bene che queste attenzioni permangano nel tempo. Noi siamo troppo spesso abituati a momenti forti che seguono incidenti mortali, situazioni drammatiche, grandi dolori. Però la cosa più importante sarebbe che questa emozione, questo sdegno, questa rabbia, questa reazione poi si traducesse in politiche strutturali, che consentissero di mettere la prevenzione al centro di percorsi e non come opzione residuale. Sono chiare le parole di Renzo Berti, direttore del Dipartimento Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL Toscana Centro. Autorità sanitarie, istituzioni e imprenditori questa volta non possono limitarsi al cordoglio, affinché la morte di Luana Dorazio non sia vana. Serve una riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traduca in una presa di coscienza diversa sull'importanza della prevenzione. I controlli ci sono e saranno intensificati, ha aggiunto Berti, ma questo da solo non basta. Lo dico con particolare riguardo al mondo dell'imprenditoria, perché io sono assolutamente convinto che la prevenzione primaria, per essere efficace, deve essere svolta da coloro che operano nei luoghi di lavoro. Certamente ci sono e ci devono essere i controlli, però le migliori garanzie derivano non tanto dal fatto che qualcuno vada salturiamente a verificare, ma dalla circostanza che chi è operativo quotidianamente abbia le risorse, abbia la volontà e sappia come fare. Se così sarà, probabilmente anche questi eventi drammatici diminueranno davvero. Grazie. 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 Grazie.